Ma io lo vedo tutti i giorni e lui è il gioco del calcio, perché è tutt'uno con la palla, è un ragazzo che ha grandissima abilità, grandissima intelligenza, è rapido, quindi è il gioco del calcio, deve avere la fortuna di star bene, basta, perché io Giuseppe Rossi l'ho avuto da 15 anni in avanti, quindi io l'ho visto crescere al Parma, quindi l'unica cosa che tutti noi dobbiamo così augurarci, perché è un bel vedere, auguriamoci tutti di poter esprimere tranquillamente, serenamente, con gioia e salute le sue qualità. Sono d'accordo, sono d'accordo, il primo tempo molto bene il Genoa, nel gioco, anche nella pressione, il secondo tempo ci siamo abbassati troppo, abbiamo subito passivamente, quindi non mi piace che il Genoa sia così, c'è da considerare la forza dell'avversario, la Fiorentina ha davvero una squadra forte, molto forte, poi anche in salute, detto questo bisogna essere più attivi.